Sono Marco Ghisolfo, consigliere del Municipio Centro-Oest di Genova. Sabato 29 maggio, dalle ore 15 alle ore 18, mi potrete trovare al banchetto della Lega Salvini Premier Liguria, in piazza San Lorenzo. Sarò presente perché è importante difendere e presidiare i nostri territori, i nostri quartieri e difendere il nostro Made in Italy. Vi aspetto.